Il decreto dignità sarà un cappio al collo per gli imprenditori. Non usa mezzi termini il presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas che dichiara tutta l'insoddisfazione del mondo delle imprese per le modifiche apportate al decreto originario, su iniziativa soprattutto dei parlamentari leghisti. Ci sono imprenditori che sono arrivati a gesti estremi, ricorda Zoppas. Una miriade di piccole e medie aziende non sono mai uscite dalla crisi e sono in gravissime difficoltà. Questo decreto, anche con le correzioni apportate finora le farà chiudere aumentando la disoccupazione del precariato. Un appello raccolto dal governatore Luca Zaia che assicura il lavoro emendativo della Lega non è finito. Noi abbiamo sempre un ottimo rapporto con il nostro popolo veneto che ha rappresentato pensi da 600.000 imprese delle quali hanno l'80% meno di 15 dipendenze, quindi sono piccole e medie imprese che non è un modello fordista. Dall'altro voglio anche ricordare che noi ci siamo, siamo affianco alle imprese, ai lavoratori, il decreto dignità pone una questione che è quella del precariato. Ovviamente bisogna trovare un equilibrio tra l'esposizione verso l'impresa e l'esposizione verso il lavoratore. I nostri parlamentari stanno portando avanti la loro azione di modifica anche in queste ore, garantisce Zaia. Attendiamo la versione definitiva prima di dare un giudizio. Io sto seguendo questa partita, ho fatto, ho girato le osservazioni degli imprenditori in termini non sospetti come l'hanno fatto i parlamentari. No, no, come l'hanno fatto i parlamentari, tutti gli parlamentari sono tanti interessati e ripeto l'azione emendativa della Lega in Parlamento è evidente, è lì leggibile, per cui l'imprenditore può vedere cosa ha proposto la Lega rispetto a quello che era il decreto originario uscito dal Consiglio dei Ministri. Difende invece il provvedimento il capogruppo grillino in regione Jacopo Berti, secondo cui le imprese non hanno nulla da temere. La Lega da una parte a Roma voterà convintamente questo decreto e invece qua Zaia si vede per stare con due piedi nella stessa scarpa, cerca di stare da una parte e dall'altra. Io dico che bisogna essere poi molto concreti e questo è un decreto che ripeto ridà slancio al lavoro, lo fa attraverso delle misure economiche importanti per stabilizzare situazioni lavorative e quindi ridare a imprenditori e lavoratori la dignità di poter lavorare in questo territorio. Critiche di segno opposto a quelle degli industriali arrivano invece da liberi uguali che accusa i 5 Stelle di timidezza nel difendere i diritti dei lavoratori. Non sarà questo decreto a riportare la dignità per i lavoratori, intanto perché è contraddittorio, fanno dei passi in avanti in alcune materie, dei passi indietro immediati, neanche il tempo di presentarlo che già l'avevano modificato.